tampone eliminato in inghilterra per gli arrivi dei viaggiatori vaccinati il sistema di welfare britannico non adatto con milioni di persone in difficoltà city of london vuole costruire grattacieli di legno le cittadine con i prezzi delle case più alti che a londra buonasera ben ritrovati nel telegiornale di italy today uk parleremo di tamponi perché il governo britannico vuole eliminare per i viaggiatori vaccinati i tamponi ma vuole agevolare anche i viaggiatori non vaccinati e poi c'è il welfare che da più parti si richiede una sostanziale riforma dei benetis per fronte alla situazione della pandemia o post pandemia ed infine c'è la city of london che vuole costruire dei grattacieli di legno ma parleremo anche delle cittadine britanniche con i prezzi più alti delle case rispetto all'ogra partiamo subito con il primo argomento di oggi il governo britannico vuole togliere i tamponi per i viaggiatori vaccinati che vogliono fare ingresso in inghilterra ma c'è un'agevolazione anche per chi non è vaccinato infatti non ci sarà il test dell'ottavo giorno misure prese per aiutare un settore che forse ha subito di più di molti altri il problema delle restrizioni le conseguenze della pandemia e delle stesse restrizioni prego il servizio il governo elimina il tampone per tutti i vaccinati che arrivano in inghilterra la misura sarà introdotta dalle 4 del mattino dell'11 febbraio secondo quanto affermato da segretario dei trasporti grant shops le regole sono state alleggerite anche per i viaggiatori non vaccinati che non dovranno più sostenere il test dell'ottavo giorno tuttavia avranno ancora bisogno di un test prima della partenza e al secondo giorno e tutti coloro che arrivano in inghilterra indipendentemente dallo stato di vaccinazione dovranno comunque compilare un modulo di localizzazione dei passeggeri anche se questo sarebbe reso più semplice e facile da completare ha affermato shops scozia galles irlanda del nord hanno già seguito l'esempio dell'inghilterra commentando i cambiamenti primo ministro boris johnson ha affermato quello che stiamo facendo per i viaggi è per dimostrare che questo paese è aperto agli affari e ai viaggiatori il settore dei viaggi e del turismo ha accolto favorevolmente la dichiarazione del premier una ricerca pubblicata la scorsa settimana dall'ente commerciale airlines uk e manchester airports group afferma che ci sono le prove scientifiche per poter rendere le vecchie regole dei test obsolete per i viaggiatori completamente vaccinati secondo l'amministratore delegato di airlines uk team aldersale questo è un giorno fondamentale per passeggeri aziende e plc del regno unito e per la presentazione dei viaggi in estate anche johan lungrain amministratore delegato di easyjet pensa ad un'estate positiva è chiaro che le restrizioni di viaggio non hanno rallentato materialmente la diffusione di omicron nel regno unito e quindi è importante che non ci siano più restrizioni con le future varianti affermato lungrain che prevede che la compagnia aerea possa tornare ai livelli di voli prossimi al 2019 quest'estate per la virgin atlantic la rimozione di tutti i test per i passeggeri vaccinati è l'ultimo passo verso un viaggio aereo senza problemi ristabilisce la fiducia dei clienti e la domanda aumenterà in una finestra di prenotazione critica per l'industria dei viaggi preoccupata invece l'organizzazione per l'industria dei laboratori dei test che i requisiti per i test di viaggio siano stati revocati troppo rapidamente ma forse anche per la perdita di fatturato derivanti dalla mancanza di obbligatorietà dei tamponi chiara pedrazi per italy today ringraziamo chiara pedrazi il sistema di welfare sarebbe non adatto alle nuove necessità imposte dalla pandemia dirlo uno studio dell'università di york e birmingham ce ne parla nel prossimo servizio invece francesca doria secondo molti esperti il sistema di welfare britannico è inadatto e ha urgente bisogno di riforme tra i timori che 6 milioni di famiglie faranno fatica a sbarcare il lunario tra le pressioni della pandemia e la spirale della crisi del costo della vita l'impennata dei prezzi di cibo e affitto insieme alle bollette dell'energia che si prevede il raddoppieranno ad aprile quando il tetto massimo dei prezzi sarà alzato sta costringendo le famiglie a indebitarsi e a fare affidamento sulle banche alimentari un rapporto pubblicato oggi chiede riforme rapide del sistema di sicurezza sociale per proteggere le famiglie a basso reddito da difficoltà sempre maggiori e il suo autore ha avvertito che non è rimasta alcuna capacità di recupero covid realities uno studio biennale dell'università di york e birmingham e del child poverty action group che documenta la vita di 150 famiglie a basso reddito con bambini durante la pandemia afferma che il covid ha esposto e esacerbato i problemi esistenti nel sistema del welfare inglese il nostro sistema di sicurezza sociale è attualmente inadatto a proteggere le persone dalla povertà e a fornire alle persone un certo livello di sicurezza mentre affrontano quelle che spesso sono sfide temporanee come ad esempio la perdita del lavoro la rottura della relazione la genitorialità e la malattia ha affermato ruth patrick docente di politica sociale presso la york university e leader del programma di ricerca questo era chiaro prima della pandemia ma il covid ha ulteriormente esposto e evidenziato cosa significa quando il sistema di sicurezza sociale è semplicemente inadatto allo scopo continua patrick il rapporto basato su genitori e tutori che vivono in povertà chiede modifiche al sistema di welfare che spesso aumenta le pressioni finanziarie sulle famiglie a causa di problemi strutturali con l'universal credit che è stato ridotto di 20 sterline a settimana ai livelli pre pandemia in ottobre ma per il governo i redditi più bassi stanno ricevendo mille sterline in più all'anno francesca doria per italy today uk la city of london sta pensando di cambiare le regole sull'edilizia per facilitare la costruzione di grattacieli in legno secondo le nuove tecnologie a basso impatto ambientale capiamo di più dal prossimo servizio di daniele pace i vertici della pianificazione edilizia della city of london stanno valutando la possibilità di costruire grattacieli in legno per rendere lo square mile più sostenibile dal punto di vista ambientale tali strutture che sfruttano i progressi della tecnologia delle costruzioni in legno per edificare palazzi fino a 280 piedi e 18 piani sono popolari in paesi come norvegia svezia e singapore ma hanno problemi ad ottenere considerazione in gran bretagna tuttavia i progettisti della city of london corporation l'autorità locale dello square mile stanno valutando dei piani per allentare le regole mentre gli sviluppatori cercano di ridurre le emissioni di carbonio allontanandosi ideologicamente da strutture in cemento e acciaio eilster moss presidente del comitato per la pianificazione i trasporti della corporation ha affermato che fattori tra cui l'impatto ambientale e la sicurezza antincendio sarebbero stati considerati come parte di qualsiasi nuovo sviluppo il comitato e il dipartimento di pianificazione hanno sempre considerato il piano impatto ambientale di uno sviluppo prima di prendere una decisione finale sull'approvazione ha aggiunto concludendo qualsiasi schema approvato dal comitato per la pianificazione e trasporto dovrà soddisfare tutti i requisiti di sicurezza antincendio stabiliti dal regolamento edilizio del 2010 ma questo è un processo separato secondo steward bailey responsabile della pianificazione presso l'agenzia immobiliare knight frank il concetto di grattacielo il legno è davvero interessante ed è qualcosa a cui dovremmo pensare seriamente se vogliamo ridurre significativamente l'impronta di carbonio di edifici alti in futuro in australia ad esempio vengono costruiti edifici di 50 o 60 piani utilizzando questo materiale altamente sostenibile ed economico il che pone la domanda se c'è perché non qui la city of london quindi si prepara a cambiare di nuovo la sua skyline stavolta seguendo criteri ecologici grazie alle nuove tecnologie delle costruzioni in legno materiale di cui londra è piena e su cui fu fondata un ritorno al passato per guardare al futuro daniele pace per italy today uk è sempre in tema di edilizia parliamo del mercato immobiliare inglese perché a causa della pandemia dell'home working molte piccole città hanno visto l'arrivo di molti londinesi causando così un'impennata dei prezzi delle case prego il servizio con la pandemia e l'home working molti lavoratori si sono sposati fuori dalle grandi città in quartiere residenziale che in poco tempo hanno visto i prezzi delle case salire alle stelle più che a londra da sempre la città più cara dell'inghilterra cambridge è abituata a essere in cima alle classifiche per la sua università di fama mondiale ma ora anche il suo mercato immobiliare si sta avvicinando alla vita della classifica per la prima volta in due decenni il prezzo medio degli immobili in città è superiore a quello di londra la capitale è stata a lungo la patria dei mattoni più costosi della gran bretagna una tipica casa Kensington e Chelsea la parte più cara del paese costerebbe l'incredibile cifra di un milione e 500 mila sterline ma mentre la crescita dei prezzi delle case della capitale stenta ora ci sono otto councils fuori città con i prezzi medi più elevati rispetto alla media complessiva di londra che è di 507 mila e 300 sterline l'elenco è stato pubblicato dall'agenzia immobiliare hamptons utilizzando i dati dell'office for national statistics con i prezzi medi di 512 mila e 500 sterline cambridge è una delle enclavi dorate la crescita dei prezzi nella città universitaria è stata guidata da un'estrema carenza di proprietà in vendita e attirata acquirente da londra per la combinazione di cultura vivacità spazi verdi collegamenti con la capitale newham è il soborgo più ricercato di cambridge ma l'effetto si è diffuso anche nei villaggi circostanti come meldreth il canso più costoso è elmbridge con il prezzo medio della zona arrivato a 663 mila e 500 sterline poi st albans la città del head for share dove una casa media costa 569 mila e 300 sterline con londra a soli 20 minuti anche tendridge sempre nel serri e le città di oxford e catera sono diventate più cari di londra per la prima volta in quasi un decennio la domanda ora è quante altre località supereranno londra nei prossimi anni come facevano prima che gli effetti della crisi finanziaria colpissero nel 2008 c'erano 19 enti locali con prezzi medi più alti di londra negli anni successivi al crollo e con l'impennata dei prezzi dalla capitale questo numero si era ridotto nel 2015 erano quattro l'equilibrio del mercato attualmente è nella zona del pendolarismo poiché gli acquirenti optono per lo spazio rispetto alla vita di città ci si aspetta che il numero dei councils continui a crescere nei prossimi due anni e oxford potrebbe presto eguagliare la sua storica rivale cambridge simona sieda per italy today uk ringraziamo si buona sieda il telegiornale di italy today uk termina qui grazie per averci seguito noi come ad ogni puntata vi invitiamo a rimanere collegati e aggiornati grazie ai nostri canali youtube social e anche il sito internet italy today uk grazie grazie a tutti grazie a tutti